Oh Jimmy, Jimmy, sto facendo il video Non, ah, non, ah, ma non, ah, no Ah, oh, ah, oh, 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 oh Eda, ma fate qualche mossa combinata, dai Ho fatto una palla I bulgari I bulgari I bulgari Io non ho più piatto di bulgari Ma non è che ho passato la distrazione Adesso ci sono